Ben tornati a tutti e finalmente con un piccolo ritorno di Mindy Off Ah, esatto! Lo facevo da un bel po', sinceramente Oh, oggi mi andava di fare una rama, quindi... Vediamo come va Andrò sempre con il nostro caro amico che non cambierà Venirà il cancro Chiame, no, no, no Ammazza quanti siete Siamo al primo piano Moretz la porta d'oro non l'ho presa no manco morto ciao cacchette eh non so io andiamo speed up che cacchio sei tu grosso mio inglese è scarso quindi non mi ricordo stupido tipo no superfluo qualcosa di giro tutte cose buone no rich mo non ha provato il proteo non ha provato il proteo tutti qualcosa al cinema ma da la pala a piedi ahhh questa sposta spatterà anche le rocce anzi ma questo è un problema che si spaccono le rocce è un peggio esatto io volo a me le rocce sono utili come in questo caso se lo so usare bene questa è sicuramente brutta eeeh tutto è buono andiamo a esplorare chimo chimo perchè non sapesse è grosso semplicemente in giapponese è venuto in mente chi è chi è chi è non è che mi date qualcosa di decente no tutte ste rocce ma vediamo anche il prossimo monstro ah ma fa anche tanto non mosca di merda ero tu ciao dai dammi il diavolo eccolo lì palla 8 non mi ricordo cosa sai ma sai meglio di qual'è oh e no vabbè l'altra tutto guarda qui a stare morri cos'era lo sassolino non mi ricordo niente da quanto tempo non ci seguo ah se chiediamo qualcosa andiamo sta andando abbastanza bene quindi andiamo a fare coglioni madonna dove stavo andando ma che cazzo oddio è vero è il sassolino questo non faccio danni praticamente non fa danni fortuna che sparo più la città come mi hai preso ok ok oh allora mi sono sempre che faccio poco kisini da ah no sono mortale questo mi stanno sul cazzo sai perché no ma perché stavo mirandovi là dai su perché non ti capisci da solo bastardo tiens cosa hai paurito sopita ah rai 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 ma si tutte buone le stanno uscendo le pillole suu suu aprivi agni non lo ammazzate che posso scherzo bisogna stare in stallo ovviamente 2 che terra oddio è una partita così bene tutti questi cuori mi sentirebbe già il posto dove la può portare no vuoi vedere che ci sono tessi qui ok spera non è stata usata eccola qua vediamo cosa servire vediamo cosa servire diciamo che si anche se colorate che in mente è più o meno la stessa cosa come la piere fa scherziamo ma no non posso morire adesso contro mega fetti contro mega fetti poi contro mega fetti poi oh mi ha aumentato il il chiappa quanto sto andando male quanto sto andando male vabbè eh sì le mie statistiche non sono così tanto buone come pensavo che non vediamo oh no adesso mi sono ricordato cosa fosse non sarà meglio usarlo contro il boss non non che ma porca droga mmm sì guarda quanti cuori quanto voglio e che ma mi spinge proprio no non 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 buonassi e snor l'unica cosa che mi servirebbe adesso è sicuramente brutto due bombe davvero ciao non è che mi dai qualcosa di recente un cuore di ferro sarebbe perfetto puoi proprio esplodere allora ciao un letto non esplode va bene va bene va bene morirò che scommetto del prossimo monstruo no 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 no